Dal tavolo dei 28 leader europei arriva la condanna all'intervento militare russo in Siria. Bruxelles considera tutte le possibili opzioni, incluse ulteriori misure restrittive, contro chiunque sostenga Bashar al-Assad, compresi la Russia. Ferma la posizione di Germania e Francia. Eppure la strada per nuove sanzioni a Mosca, in aggiunta a quelle per l'Ucraina, potrebbe essere in salita. Ungheria, Slovacchia, Grecia e Cipro, ma soprattutto Italia, si oppongono. Il governo Renzi non crede che le misure sanzionatorie siano appropriate per rispondere alle crisi internazionali. Soprattutto il premier Matteo Renzi, in piena campagna elettorale, preferisce non dissentire dall'opinione pubblica italiana. Da Verona, Alexei Meshkov, vice ministro degli esteri russo. La politica delle sanzioni sta solo peggiorando il business europeo. Quello di ieri è stato anche il primo Consiglio europeo per Theresa May. La prima ministra britannica ha sbattuto i pugni e richiesto, prima della definitiva di partita dall'Unione, la piena partecipazione ai negoziati europei. Acido il commento di Hollande. Se vuole una Brexit dura, avrà anche negoziati duri. Oggi la riunione del Consiglio europeo sarà dedicata al commercio. L'accordo sul CETA è appeso a un filo, bloccato dal Belgio, ostaggio del veto della Vallonia. Mosca e Damasco hanno deciso di prolungare di 24 ore la pausa umanitaria unilaterale ad Aleppo. Il primo giorno non sono stati raggiunti i risultati sperati. All'interruzione dei raid aerei, i guerriglieri hanno risposto colpendo i corridoi col fuoco del mortaio, ostacolando così l'evacuazione dei civili. Nel corso del bombardamento hanno perso la vita alcuni funzionari siriani e sono stati feriti tre ufficiali russi. Soltanto dieci guerriglieri sono riusciti ad abbandonare la zona orientale della città servendosi dei corridoi umanitari. L'opposizione moderata avrebbe giustiziato 14 autorità locali per aver esortato gli abitanti a lasciare i quartieri controllati dai terroristi. Dopo l'incontro col presidente ucraino Poroshenko sugli accordi di Minsk, mercoledì 19 ottobre Merkel e Roland hanno incontrato separatamente Putin per discutere sulla Siria. Nel mentre Poroshenko veniva ricevuto da Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, per implementare la collaborazione militare. Intanto ai confini con il Donbass sarebbero arrivate centinaia di mercenari stranieri. Provenienza? Stati Uniti, Canada, paesi baltici e Polonia. I mercenari portano in dotazione armi e veicoli di manifattura americana e sono addestrati da ufficiali americani e polacchi. Sarebbero questi gli accordi di pace? Terminerà domani il soggiorno cinese del presidente filippino Rodrigo Duterte e dei 200 imprenditori che lo accompagnano. Tra gli obiettivi della visita, la firma di un contratto da 13,5 miliardi di dollari con Pechino. Lasciatisi alle spalle la questione delle isole contese del mar cinese meridionale, le parti potrebbero gettare le basi per una nuova alleanza strategica, non solo commerciale. Nel corso della visita, infatti, Duterte ha annunciato una nuova linea di politica estera, più vicina a Cina e Russia e libera dal controllo dell'Occidente. Washington freme e, per fare chiarezza, nel fine settimana invierà a Manila l'assistente del segretario di Stato, Daniel Russell. Dopo un'assenza di due anni e mezzo, a fine ottobre il Libano potrebbe nuovamente avere un presidente. Dopo aver puntato su altri candidati la cui elezione è fallita, l'ex premier Saad Hariri, leader del maggiore movimento sunnita del paese, ha dichiarato di sostenere la candidatura a presidente del generale cristiano Michel Aoun. Il generale ottantenne prende le distanze dalla Siria, ma si definisce amico di Hezbollah, alleato di Assad in Siria e tuttora oggetto di sanzioni da parte di Washington. Aoun potrebbe essere eletto presidente del Libano alla sessione parlamentare del 31 ottobre. Tale carica rimane vacante da 29 mesi, a causa dell'impossibilità di trovare un candidato che soddisfi allo stesso tempo sunniti, sciiti e cristiani. Sabato 22 ottobre si terrà l'Assemblea nazionale del Comitato No Guerra, No Nato. La sede scelta è Firenze, nella casa del popolo di Peretola, gentilmente concessa. I lavori cominceranno alle 10 del mattino e si concluderanno nel secondo pomeriggio. All'ordine del giorno, la definizione dei temi che il Comitato No Guerra, No Nato considera prioritari nella lotta per l'uscita dell'Italia dalla Nato. Tra questi, l'iniziativa per costringere il Governo a rispettare il Trattato di Non-Proliferazione, che l'Italia ha firmato a suo tempo, e che vieta il soggiorno sul territorio nazionale di armi atomiche di qualsivoglia tipo. Verranno decise le strutture organizzative permanenti del Comitato. L'invito è esteso a tutti i militanti italiani che considerano priorità assoluta l'uscita dell'Italia dalla Nato.